ah cosa fa lì perché era? niente sto a sto dicendo le preghiere della sera si perché ecco ho saputo che eravamo vicini di camera e volevo brindare al nostro incontro ma forse l'ho disturbato no no per carità io proprio adesso ho detto l'ultima preghiera e la tiro bravo non sapevo che perdere le preghiere si usasse anche il metro eh si perché dobbiamo misurare le quante ave maria, gloria padre, pater nostro e ingegno e gloria bravo coglionello mi fa piacere perché in genere voi cattolici non siete molto osservanti no no io osservo osservo tutta la sera dico 12 ave maria certo l'ideale sarebbero 25 ma è lungo oh poverino oh non fate male oh oh ah 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 sono io cin cin bello a me lo sa che mi piace? veramente mi piace veramente perché è un uomo completo in campo medico potrebbe essere un organo molto importantissimo e io quello voglio diventare un organo importantissimo ma lei lo è già thank you ah ha un coraggio da leone è forte deciso accanto a lei una donna si sente fermata e al sicuro e adesso basta con tutti questi complimenti lei mi sta ringoglione e imbambendo eh parliamo un attimo di lei che è meglio ieri sera sentivo della musca da camera e venite alla sua camera la sua camera? si oh l'ho disturbato sai quanto mi dispiace ah ah la musca a me mi piace morire la musca la musca a me oh mi sono contento di me la vita sa anche di me mi ripaga l'angoscia della mia professione un tempo volevo fare la ballerina e la cantante ora lo faccio in privato come hobby chirurgo per gli altri ballerina per me ma davvero non l'ho disturbato perdonami no no per carità è che io soffro un po' di insonnia ecco capita anche a me delle volte sai sono come dei piccoli squilibri io mi aiuto con lo yoga lei si intende dello yoga? beh dipende dipende se per yoga la intende solamente la parola che il linguaggio sascrito significa unione o se vogliamo veramente arrivare alla vera definizione indiana lanciata da quel grande guru Patanjali al 400 avanti Cristo e cerca che appunto sta a significare l'unione di due corpi che fanno chikt e chikt fra loro che poi sarebbe Saganai per arrivare alla reincarnazione di una circonvalazione esterna della circola rossa che verso il karma è nirvana quando è bello nirvana ma lei sa proprio tutto è veramente un mostro mi sembra un guru si veramente me lo dicono tutti a me sa come ho la faccia da guru io non ce l'ha nessuno grazie per la visione